Arrestate oltre 30 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo di associazione per delinquere, con l'aggravante di aver agevolato le attività di una nota cosca andranghetistica calabrese grazie ad una maxi-operazione antimafia coordinata dai militari del Comando Provinciale Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Tre i malviventi, due, entrambi 55 anni calabresi, sono residenti a Castelfranco e a Occhiobello in provincia di Rovigo. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Brescia, ha disposto anche il sequestro finalizzato alla confisca di oltre 6,5 milioni di euro. Al momento sono in corso decine di perquisizioni in 12 province tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Sardegna, Basilicata e Calabria. La complessa attività di indagine è partita dal territorio bergamasco e ha visto il coinvolgimento della Guardia di Finanza per gli accertamenti di natura economico-finanziaria, da cui ne è emerso un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro, realizzato grazie a sette società cartiere, e cioè intestate a prestanome o a imprenditori compiacenti e con sedi in Lombardia, Umbria e Calabria. Importante è anche il ruolo di professionisti contabili per la realizzazione di questo volume d'affari, i quali, attraverso la propria opera di consulenza, sono indiziati di aver ideato modelli seriali di evasione fiscale, a beneficio delle suddette società. Le attività investigative, svolte grazie al monitoraggio costante degli spostamenti e degli incontri dei diversi soggetti coinvolti, hanno permesso di far emergere anche attività usurarie denunciate da alcuni imprenditori in difficoltà.